Arriva ad Ascoli Piceno è un architetto e insegna a Bologna il nuovo manager della reggia di Caserta. Sarà Tiziana Maffei a guidare uno dei monumenti simbolo della campagna nel mondo. Tiziana Maffei è anche presidente di Icom Italia dal 2016 e succede a Mauro Felicori nella carica di direttore della reggia vanvitelliana. La sua scelta è stata indicata poche ore fa dal ministro per i beni e le attività culturali Alberto Bonissoli. Maffei è un'esperta di architettura e del settore del patrimonio culturale trovandosi spesso a far interagire competenze e passioni nei due campi. Nel settore del patrimonio culturale dei musei in particolare ha promosso e curato diversi progetti di valorizzazione e allestimento di poli culturali e museali con particolare attenzione per i problemi gestionali e della sicurezza. Insomma sono davvero tante le aspettative che il territorio ha nei confronti di un monumento come Palazzo Reale e in città tutti si augurano che la scelta del ministro si rivelerà vincente per Caserta e per tutta la terra di lavoro.